Ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati. Allora, ragazzi, prima di partire una cosa, come vedete qui, è la prima registrazione con il microfono nuovo, quindi fatemi ragazzi sapere sotto nei commenti del video, insomma, se mi sentite meglio ragazzi, credo, credo veramente di sì, quindi insomma spero appunto che questa novità appunto vi piaccia. E ragazzi, appunto, non perdiamo tempo, andiamo subito ragazzi. Allora, al pre-partita della sfida, ragazzi, degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli ed Empoli che si giocherà, ragazzi, domani pomeriggio allo stadio Maradona di Napoli, ragazzi. Quindi andiamo appunto a giocarci questa sfida con il Napoli in Coppa Italia, gara secca, ragazzi. Allora, io ragazzi, andiamo prima di tutto a vedere un po' quale potrebbe essere la probabile formazione dell'Empoli, ragazzi, visto che secondo me ci potrebbero essere appunto dei, insomma, diversi cambi, il turnover, ragazzi, mi sembra inevitabile, visto poi, insomma, gli impegni di campionato che ci saranno appunto a partire da domenica sera. E ragazzi, allora io direi che ci potrebbe partire appunto con Furlan in porta, quindi appunto Brignoli un turno di riposo. Poi, ragazzi, in difesa io direi sugli esterni il rientro di Terzic, poi sul lato destro Cambiaso, i centrali, ragazzi, sicuramente Casale, uno dei due, e vedremo, ragazzi, appunto, chi sarà poi il secondo centrale. Poi, ragazzi, a centro campo io direi che ci potrebbe essere spazio appunto per Damiani dal primo minuto, poi, ragazzi, appunto, vedremo, appunto, gli altri due chi saranno. Io, ragazzi, credo che appunto che potrebbe essere appunto che, che appunto Sturlats potrebbe avere un turno di, di riposo e magari, ragazzi, ci potrebbe essere, sì, magari As e, 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 e Zurkoski, però può darsi anche che venga utilizzato un, un altro, un altro giovane. E poi, ragazzi, sulla tre quarti, quindi, eh, classico 4, 3, 1, 2, sulla tre quarti, eh, appunto, direi che, mh, che Bairami potrebbe partire, appunto, dall'inizio, con le punte, eh, Olivieri e, e, mh, e Matos dal primo minuto, quindi un, un, un attacco bello, bello rapido, magari per poter sfruttare i, mh, i contropiedi. E, ragazzi, allora, con il Napoli abbiamo, eh, giocato po, poche partite, ragazzi, non abbiamo quasi mai vinto, abbiamo vinto soltanto una volta in, in casa, appunto, del Napoli, mi sembra, nel 2008, mi sembra ancora con, con, con due gol, se non sbaglio, appunto, di Fozzi, quindi, insomma, comunque, ragazzi, rimane, appunto, una sfida difficile. Allora, ragazzi, andiamo, appunto, al, al commento. Allora, ragazzi, la sfida di domani, secondo me, appunto, è, diciamo, la, 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 la giusta chiusura, diciamo, del, del girone, eh, praticamente, di andata che abbiamo fatto, ragazzi, veramente, un campionato fin qui, veramente, ottimo. E la partita, ragazzi, di domani, secondo me, è il, 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 il premio, insomma, diciamo, a, a questa squadra, perché, comunque, insomma, si va a giocare in un, in un, in un, in un campo che non è facile. Comunque, ragazzi, sfida sempre, mh, prestigiosa, insomma, una sfida, eh, appunto, di, di Coppa, di Coppa Italia, anche se da parecchie squadre viene presa, comunque, sotto, sotto, sotto gamba. Ma, comunque, ragazzi, la Coppa Italia è sempre una, una manifestazione, appunto, da, da tenere in, in considerazione, quindi, ragazzi, insomma, è, 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 è la, è la, è la giusta passerella, secondo me, per questa squadra, ragazzi, appunto, che si merita ad andarsi, appunto, a giocare una partita così contro, appunto, una squadra di Serie A. E, ragazzi, appunto, ci confrontiamo contro questo Napoli, ragazzi, vedremo un po' loro, appunto, eh, appunto, chi schiederanno, se magari anche loro, sicuramente, delle, delle seconde linee. L'Empoli, appunto, ragazzi, come ho, ho detto, sicuramente schiederà, appunto, dei, dei giocatori che, che giocano, non, 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 non dico, appunto, riserve, perché, appunto, non mi piace, ragazzi, perché quando, appunto, hai una, una rosa come quella dell'Empoli, è, 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 è giusto che tutti abbiano, appunto, le, le proprie chance di, mh, di giocare, e, ragazzi, rimane questa, comunque, una partita, ragazzi, c'è poco da dire, insomma, eh, eh, tosta, dura, difficile, eh, mh, ragazzi, cioè, secondo me questa partita va presa, appunto, per quello che è una, un, un, un'occasione, un'occasione, appunto, di giocarsi un, 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 un ottavo di Coppa Italia, e, noi, appunto, scendiamo in campo, ragazzi, per dare il, il meglio, ovviamente, ragazzi, per cercare, appunto, di portare a casa un, 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 un risultato positivo che, appunto, non deve essere, per forza, andare, andare a vincere, che non è facile, ma può essere, ragazzi, anche, appunto, andare a perdere, comunque, con un gol di scarto, cioè, nel senso, non è detto che, appunto, si debba vincere, anzi, non sarà facile, ragazzi, è quello senza dubbio, anche se, appunto, loro schiederanno, le seconde linee, e, però, ragazzi, appunto, io, sinceramente, cioè, non, 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 non mi aspetto, e non pretendo che, appunto, si vada a vincere in casa, in casa del Napoli, però, insomma, comunque, ragazzi, appunto, mi aspetto che la squadra scenda in campo per giocarsi, insomma, le proprie chance, sfrutti, sfrutti, sfrutti le occasioni che gli, insomma, che gli, che gli capiteranno, ragazzi, loro, appunto, il Napoli, io penso, appunto, scenderà sicuramente per vincere, ragazzi, ma, appunto, dovremo essere bravi a sfruttare le poche occasioni, ragazzi, che ci capiteranno, e chissà, e chissà cosa può, cosa può, cosa può succedere, ragazzi, però, insomma, sicuramente, detto, non è una partita semplice, perché, ragazzi, insomma, aspettarsi che questa, che questa squadra possa andare a giocarsi, appunto, contro il, 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 il Napoli, avviso, avviso aperto, si rischerebbe, magari, di prendere, anche, secondo me, una, una goleada, bisogna, insomma, andare lì, magari, chiudersi un pochino, ragazzi, insomma, e provare, appunto, con la velocità a ripartire, però, ragazzi, c'è poco a dire, questo, sicuramente, questa, questa coppa non è un, un obiettivo dell'Empoli, e secondo me, ragazzi, appunto, non, non è neanche giusto, non è neanche giusto, e sarebbe, anche, secondo me, un po', un po' sciocco, un po' sciocco, un po' sciocco, schierare tutti, tutti, tutti big, tra virgolette, cioè, nel senso, Sturatz, se lo puoi far riposare, è bene che riposi, uno, appunto, dei due centrali, magari, è bene che riposi, le punte, ragazzi, ma un cuso, secondo me, è meglio, magari, che te lo tieni, con la partita, appunto, con la Salernitana, ragazzi, appunto, che domenica arriva, appunto, questo big match, ragazzi, e quindi, secondo me, insomma, ragazzi, noi dobbiamo, appunto, cercare di fare bene la partita di campionato, questa, ragazzi, è un'ottima occasione, una chance, un, appunto, un riconoscimento per la squadra, però, ecco, niente, ecco, niente, niente di più, ragazzi, andiamo lì, ci giochiamo le nostre chance, verremo il risultato, ragazzi, appunto, se si dovesse vincere, ragazzi, tanto, appunto, tanto di guadagnato, perché, ragazzi, appunto, andarsi può giocare un quarto di finale, non è da tutti i giorni, e poi, ragazzi, se dovesse uscire, vuol dire, appunto, che l'Empoli ci ha, ci ha, ci ha provato, e niente, tutto, tutto qui, ragazzi, io, appunto, direi che non c'è nient'altro da dire, noi, ragazzi, ci vediamo, a questo punto, mercoledì sera, o giovedì mattina, per il post partita, quindi, niente, ragazzi, fatemi, appunto, sapere, il feedback sull'audio, e, come sempre, iscrivetevi, like, commentate, condividete, noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, ciao!